... Mercoledì 25 settembre, San Firmino. È il 269esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 97 al termine. Il sole sorge alle 7 e 2 minuti e tramonta alle 19 e 2 minuti. La luna si leva a mezzanotte e tramonta alle 15 e 58. Giunge a Venezia Michelangelo Buonarroti. Fuggito da Firenze, che lo aveva dichiarato ribelle, l'artista si trattiene per circa due mesi nella città dei Dogi, trovando asilo e quiete all'isola della Giudecca, dove si era rifugiato, come gli scrisse, per vivere solitario. Le previsioni per domani. Tratti di sereno, più duraturi e ampi sulle zone pianeggianti e costiere, alternati ad annuvolamenti, in aumento a partire da ovest, più consistenti sulle zone montane. Dalle ore centrali, probabili piogge, a tratti diffuse e consistenti su zone montane e pedemontane. Temperature minime, senza notevoli variazioni, massime in aumento sulle zone costiere e sulla pianura meridionale. In calo altrove.